Ciao a tutti amici, mi permetto di utilizzare come sfondo Buzz Spencer e Terence Hill che sono da sempre i miei eroi d'infanzia e penso che questa coppia racchiuda pieno tutto quello che significa essere italiani. Perché sto utilizzando loro? Perché parlo di interesse per la lotta all'inquinamento. Ieri su Repubblica è uscito un articolo che titolava che gli italiani sono sensibili alle problematiche legate all'inquinamento. Io che mi occupo di questo per passione ormai da parecchi anni e sono un ambientalista sin da bambino invece dico il contrario. Nel senso che per quella che è la mia esperienza quotidiana tutto quello che le persone fanno nel fotovoltaico riguarda una questione prettamente economica cioè il fatto di risparmiare dei soldi e magari guadagnarne dall'investimento del fotovoltaico e dei vari incentivi che sono previsti dalla legislazione attuale. Ma tutte le volte che faccio dei video dove parlo di inquinamento e parlo delle possibili soluzioni per combatterlo l'interesse è veramente scarso. Ci sono persone che come me amano la natura e gli animali e queste cose sicuramente interessano all'italiano medio ma normalmente chi segue i social guarda tutt' altre cose. Dimmi per piacere se sei d'accordo con questa mia dichiarazione cioè che all'italiano medio non interessa affatto risolvere i problemi legati all'inquinamento dell'ambiente. Condividi il video, seguimi, supporta questo canale se invece gli argomenti che tratto sono di tuo interesse. Scusate ma sono stanco. Un saluto a tutti da Marco Fayo, esperto del fotovoltaico. Ciao ragazzi e buona serata. Viva per sempre Bud Spencer e Terence Hill, i miei, i nostri eroi di infanzia. Ciao ragazzi.